La Lombardia è la prima regione in Italia per tanti settori, la prima regione agricola. Assessore Ferrazzi, come si sta preparando la nostra regione a Lombardia? La legislazione europea, come diceva, è assolutamente importante e lo sarà sempre di più in futuro, in particolare per il settore agricolo. Noi abbiamo innanzitutto l'assoluta necessità di riaffermare non solo l'orgoglio delle nostre posizioni, ma il fatto che troppo spesso in Europa vengono proposte delle norme che tendono ad omologare le produzioni, considerando che noi puntiamo proprio sulla qualità e sulla grande capacità. La Lombardia è la prima regione a Lombardia, come si sta preparando la nostra regione a Lombardia. Lombardia è la prima regione a Lombardia, come si sta preparando la nostra regione a Lombardia, come si sta preparando la nostra regione a Lombardia. Davvero la nostra volontà di far vivere il nostro patrimonio, di far vivere le nostre famiglie in ambienti assolutamente straordinari. La nostra volontà di far vivere il nostro patrimonio, di far vivere le nostre La nostra volontà di far vivere il nostro patrimonio, di far vivere il nostro patrimonio, di far vivere i nostri La nostra volontà di far vivere il nostro patrimonio, di far vivere i nostri Dobbiamo fare necessariamente un brindisi a noi, al futuro dei nostri prodotti, al futuro della Lombardia Grazie a tutti! Grazie a tutti!